Dorme pure oggi. Ehi, quelle sono troppo spesse effettivamente. Dorme pure oggi. Sanno pari. Guarda Michele che prova. Ma che chiude e rimane così? Sbloccati Daniele, dai! Vai Daniele! Pippo! Dai Daniele, forza! Vai Daniele! Ok! 12 secondi, dai Daniele! Scusa queste braccia! Dai il braccio Daniele! Ok! Rimuoviti, rimuoviti così! Va bene! Va bene! Sì! Round 2 start! Ok! Ancora il braccio, dai! Vai! 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 Daniele! Dai Daniele! Dai Michele! Dai Maria! Al centro è stata una proiettata perché si scivola. finta il braccio. Finta il braccio, vai con lo kick Daniele! Il posteriore! Daniele! Sprozzati! Dai! Dai! Dai Daniele! Dai braccio e lo kick sinistro, dai! Vai! Daniele! Occhi! Daniele vai in braccio, dai! Lo kick sinistro, Daniele, non kick! Vai Daniele! Daniele fai tutti! Lo kick sinistro! Ok! Daniele lo prende! Alzati! Non sta bene fisicamente No, non sta in forma proprio Vai Daniele Eh ma Grande Michele Sinistro, spara questo sinistro Daniele Uno nove e trentuno Michele Grande Vicky Michele nove e trentuno Adesso Daniele non domani adesso Lo kick sinistro dai Trenta secondi Adesso Daniele Usa questo sinistro Daniele Vai Daniele Daniele Dai braccia Daniele Dai Daniele Dieci secondi Daniele dai Devi recuperare Devi recuperare Ancora Ancora Terzo round Dai Daniele Dai Daniele Dai Daniele Dai Daniele Daniele dai braccia Braccia Daniele Dai Ok Dai 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 Ok ancora Va bene Bravo Sfondalo Sfondalo Già di diretto dai E tra l'altro Ok Braccia Braccia Vittali braccia e dai con lo kick sinistro Dai 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 braccia Vai 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 braccia braccia vai braccia e low kick fai la prima uno o due low kick Daniele ok ancora ancora lo devi fare ancora prendilo la prima Daniele non ti rappresi Daniele sempre diretto low kick ok va bene va bene 20 secondi Daniele ok ancora un'altra volta Daniele ok ok giambi diretto low kick sull'altra volta Daniele vai ballo Daniele dai low kick bravo 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 Daniele che cos'è Francia-Iran primo round bravo è lungo non fa così però veni girando oddio bello è un ragazzo proietto 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 è stupido è un ragazzo proietto 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 proietto è un ragazzo proietto 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 proiet sta vincendo a morte sta vincendo a morte sta vincendo a morte che toro il rovescio, il rivescio e poi il ganso è l'unico che incontro che voglio avere nel mio tifosi vado a mettere qua vado a mettere suorite guarda come parte sei un toro primo round nero, si va il secondo round non sbraccia di più madonna che toro che è non sbatteremo ma trovate con la s maiuscola guarda il toro sei un toro bull è un bacio, è un bacio non cade però non cade IRON BULL nooo adesso per fare che non gague ag grammico arrizia una pappa irlandese però per cui sono un briano non puguo perdona non puguo perdono ma sei un bacio eve non puguo perdono Stai messa a rire, guarda che stai messa a rire Guarda che gli stai esagerando Allora, la mia ragione è tirata qua via Ma si ha fatto un stai messo a dire Ma guarda Si ha fatto un po' schifo Tecnicamente si ha fatto schifo E' lì, ha caricato Che ride stanno Non puoi perdere No, l'anno prossimo lo sponsorizzo Mi apro Go, go Il greco sta fatto Mio di merda pure La mia torre il video Olè 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 Muri, è canzone pesante Olè Il greco, dai, dai L'è finito il cazzo L'è finito L'altro è tre, quattro è grande L'irlandese è un toro L'anno prossimo lo sponsorizzo Brasile-Svizzera Svizzera rosso Primo round L'altro è il greco, dai